buonasera benvenuti a quelli che ci sono già allora ciao orbi ciao orbi ciao carlo ciao 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 luca ciao diana che aveva già scritto in chat o she bangs eccolo qua che bello adesso sono di no nella mia comfort zone il mio luogo sicuro she bangs eccolo qua salve she bangs buonasera allora parto ma che è sto ritardo ma voglio mangiare io ce ne ho capito allora carlo non è che se te hai mangiato le sei allora noi dobbiamo io non ho mai mangiato le sei in vita mia ma infine dopo di te ma infatti noi mangiamo un frutto dopo di te allora scusate il ritardo però però dovevo nutrirmi assolutamente quindi e tra l'altro cioè mi sono nutrita ho mangiato delle pizzette che ha fatto marta che sono buonissime quindi non si può dire niente non potete dire niente no ora comincio con delle scuse perché in casa di riposo che ora mangiate è giusto di solito alle cinque alle cinque ci arrivano a fare le perette ah ok che non lo sapevo questa cosa adesso che so questa informazione comunque dicevo parto con delle scuse perché come forse sentirete dalla voce ho un attacco di allergia e non ho voglia assolutamente di usare lo spray per il naso quindi stasera mi tenete così allora cosa dobbiamo fare stasera allora l'ultima è tutto va bene l'ultima live prima dell'ottacco ok ok prima della pausa che abbiamo già detto un vent'ordici mila volte faremo in vista dell'arrivo di alberring tra l'altro vi volevo dire una cosa l'hai comprato cosa la terapia delle venti l'hai fatta orpi dice certo cioè sono già passato le termine mi hanno picchiato ah è quella la terapia delle venti comunque vi volevo dire vi volevo dire che sotto alla prima live di art gold c'è questo ragazzo che ha commentato vabbè chiedendo una cosa alla quale io ovviamente non potevo rispondere ma gli ho risposto in maniera molto diplomatica e l'altro commento che ha fatto è stato sei una grande siete dei grandi va bene e io non mi sento di non mi sento il volo riportare questa cosa perché mi ha fatto molto ridere e non mi sento di negare questa cosa è grandissima pesato e no e non c'era scritto e non c'era scritto però mi ha fatto molto ridere sul momento mi ha fatto molto ridere e no seriamente cos'è che stavo dicendo a ecco prima della in vista dell'arrivo del ring sapete che noi ci fermeremo con pokemon e quindi questa promette l'ultima live dovrebbe essere l'ultima se tutto va bene esatto anche perché se non vogliamo fare veramente una live di dieci minuti sarà meglio che finiamo stasera ma non vi preoccupate perché dopo il day ring ritorneremo cip sia appena decido io appena appena avrò versato tutte le mie lacrime sul dlc appena lo avremo spolpato lo avremo impalato mesmer in tutte le maniere possibili inimmaginabili allora torneremo in pokemon ci vediamo alla prossima le ulte parole famose no allora allora qui lo dico e poi scusa calcio io qui lo dico qui non lo dico perché una giornata di festa per il 21 di giugno cosa che io purtroppo non potrò fare ciao svacciando benvenuta benvenuta io purtroppo non lo potrò fare credo ma penso che sia al lavoro tipo dirò alla mia la mia responsabile sai in questo giorno esce questo gioco che mi interessa tanto tanto io almeno la sera vorrei averla libera forse 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 lisa per nine souls allora nine souls non l'ho ancora comprato io stavo aspettando in realtà perché tra tra ieri e ma che ieri tra tra oggi e domani ora una cosa un po più importante da fare che la quale spero di potervi parlare poi tra poco cioè tra poco non lo so in realtà però ve la butto lì così e non mi chiedete altro e cosa no no diventa una pianta esatto un vegetale no volevo solo aggiungere una cosa riguardo alla storia di messner che che malenia io in live l'ho fatta mettendosi tre ore di live ferma smer più o meno se siamo sullo stesso livello io stimo una cosa simile ma le tre ore di malenia in realtà sono state motivate potete anche andare a vedere su youtube non sto mentendo se volete farvi del male ovviamente sono state motivate dal fatto che io non ho voluto utilizzare un determinato equipaggiamento fino a un tot di tempo poi mi sono rotta il cazzo e ho detto malenia devi morire così vogliamo parlare veramente di quanto sia una brutta boffa no perché perché no non vogliamo non vuoi rovinarti la storia se tu non possa farlo con tutte le build una boffa e se sei o devi usare la lacrima della merda o devi usare la fiume di sangue per farla in maniera decente e anche facile in maniera diciamo fattibile non credo che sia una fight pensata a dovere va bene va bene sì allora effettivamente tu la farai con tutte le cose vai sfida challenge challenge lanciata non è vero orbi tu sai benissimo come lo faremo malenia allora esatto tra l'altro tra 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 le come si chiama le jolly cooperation con marta e con orbi stiamo raccogliendo materiale che se vogliamo fare un video meme viene una cosa veramente ma veramente 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 ci stiamo attrezzando per ricostruire dei meme in in eb ring perché veramente le scorse zone sono capitate le cose che va bene ma abbiamo già parlato anche troppo e andiamo a fare andiamo a fare quello che dobbiamo fare ovvero poco no in realtà comunque poi non avete introdotto cosa faremo stasera quindi cosa allora il piano era però poi abbiamo non so se possiamo farlo quindi faremo solo la modalità facile a sto punto così per avanti peggioni chiara vabbè praticamente prenderemo il beat di chiara e gli faremo fare un bel bambino non sto capendo ma va bene hai reso femmina hai reso femmina va bene eccoci qua fior d'oropoli se li sono messo salvataggio ho fatto tutto ok spero bene andiamo a controllare io l'ho messo prima salvataggio adesso non date la colpa chi è che è da tso scusa si prendeci benze perché sono 45 quindi le mie live sono assimilabili a una cosa folle non ho capito è un po devo di non capire va bene lisa accende il pc ma giustamente io lo vedo in ritardo perché lo guardano allora si cosa no ma io volevo spostare ho sbagliato ma chi si evolve al 15 nessuno di ma non è quello il problema che ti sei indicato con un coglione che sei no non è quello cosa devo controllare orbi devi prendere eracross prendere arceus eccolo eracross arceus e eracross no 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 lascialo lì arceus e allora ma cosa dici carlo allora sposta ma è lui che ha detto che cazzo ha parlato allora ma chi devo mettere chi devo state calmi eh state calmi chi devo mettere vedo io vedo io non ho capito ma io ho togliato tutti no all'uccello eh l'uccello ma come li fai dando senza che cazzo di dare guardate Togepi che bello Diana se te ne sei andata prima di vedere eccoci qua buonasera buonasera di miurgo e mi sta la felicità si ho messo tutti al 15 si ma Carlo stai calmo però stiamo molto calmi stiamo calmi no che è un coglione fai cadente ho fatto tanto giusto mi hai fatto il tutorial mi hai scritto il tutorial addirittura signori cioè capisci noi ti scrivi per ruffire segno tutte le cose che box ordinato io li mettevo a cazzo di cane ma in realtà demiurgo sospetto che ci sia lo zampino di di Diana non gli ho dato un nome come vedi non ha un nome questa creatura va bene ma io non voglio farlo evolvere in quel cesso però 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 vuoi fare Togepi che non è male Diana ma tanto vuoi decidere tutti te i nomi dei miei pokemon com'è che improvvisamente c'è questo controllo della live cioè vabbè concordo con carlo cosa che sono un coglione concordo con carlo ah no ma penso parlasse della cosa del TSO un buon allenatore non sceglie i pokemon più forti ma i suoi preferiti esatto se scegli un pokemon di merda il gioco non va avanti questo pokemon mi piace un sacco vincerò con la forza dell'amicizia e dell'amore ho perso ciao persiva i miei occhi aiuto e quindi basta così o prendo Togepi o lo sbatto nel supporto ok quindi basta così sfida su Tekken 8 per decidere chi è l'assista più possente non mi piace Tekken quindi facciamo la sfida nooo shibangs direi che non è proprio il caso eh cosa cosa vogliamo dire no no ma proprio no allora non mi fate venire l'orticaria che ho già tipo uno sfogo sul braccio non so che cosa la mossa non c'è bisogno di sfide in che senso shibangs ma solo dei nomi che mi possono far venire veramente l'isteria roccello pop france ma poi non papa pop emos di erco lo sai detto questa live non finirà mai e info eccolo qua mamma mia guardate che picipiti guardate che esoscheletro allora cosa devo farvi vedere le mosse botte in testa in cornata si è la sua con le omorsa no morse no le impara al 19 e quindi quindi ci tocca evolvere per dargli un minuto di internazionata lisa che parla di cose che non sa cosa vuol dire cose che non sa di a non vivo mica sottoterra cioè cose che senta sta roba un po' di strumenti un po' di strumenti caramella da fargli fare il 19 che poi si farò contro viene che impara breccia breccia addirittura breccia no la breccia li porta via questa la devo dire una cosa di stampo qualcuno dovrebbe bannare qualcun altro è legale guardare uno stream di pokemon mentre si gioca a coromon ma in che senso no cioè si allora qui aspetta faccio io no ma non l'abbiamo bannato già a caso non c'è bisogno però volevo leggere i messaggi ah volevi leggere dagli attenzioni comunque non si è evoluto in tutto questo ma non si evolve la grossa non ha evoluzioni vai vai e allora cosa hai detto dagli la cosa che si evolve l'hai detto tu prima Carlo ma la mossa non l'hai imparata lo stesso al 19 eh tu oggi si evolve tu si evolve no no guarda proviamo facciamo arrivare ah ma perché era al 15 scusate chissà cosa stavo leggendo avevo gli occhi come quando si leggono i sottotitoli di alblade ma in piano vorrebbe imparare breccia ma era che sconosce già quattro mosse vai si facciamo quale mossa voi che dimentichi tutto incornata l'avrei scelta anch'io mi stanno dicendo che sto cominciando a capire qualcosa delle mosse di pokemon o che è stato semplicemente un caso vabbè alla fine si ha notiato ci vorrei anche tu se ciò ma che dobbiamo andare a giocare con gli strumenti eh cazzo la fiammosfera no sarebbe troppo oppi perché non l'avresti la fiammosfera in questo momento la fiammosfera ciao Gianfranco ciao io devo togliermi il vizio tipo di indicare le cose col dito medio veramente andiamo ci sono degli oggetti che dati ai pokemon gli danno uno status negativo subito all'inizio della battaglia e tu mi dirai e perché devo fare questa cosa perché se apri un attimo il menu e vedi era cross per esempio e apri il menu iniziale poi abbiamo l'abilità sua la sua abilità la sua abilità è denti stretti a destra dovevo stare leggero ah ok denti stretti aumenta l'attacco in caso di problemi di stato quindi vuol dire che se lui è avvelenato o bruciato o paralizzato aumenta l'attacco aumenta di due stati esatto ora qual è il problema l'avvelenamento tende a togliere troppi HP la paralisi una volta tu credo un attacco scusate mi sto incoglionendo diminuisco la velocità perché veramente mi sto incoglionendo vabbè vabbè non so parlando praticamente che succede poi invece bruciandolo non solo perdi l'effetto della bruciatura però la negativa ovvero la diminuzione dell'attacco ma tu hai un attacco aumentato di due stati quindi fai per due ok ma ogni pokemon può avere la bruciatura aveva pochissime HP a turno veramente molto molto pochi quindi basta avere una volta come ripresa per dire una volta ogni totto o una pozione ah dai è risolto ma soprattutto non puoi subire altri status perché non puoi se sei paralizzato non puoi essere aumentato avvelenato e quindi tu quei pokemon lì che tu sai che c'hanno tipo ve ne intocco queste stronzate qua tu puoi attaccarli tranquillamente oppure pokemon che sono famosi per tipo amongus che è famosissimo per fare spore e quindi addormentare tu dici no io sono bruciato non puoi addormentare vaffanculo amongus ok e così lo mandi a fare in cui ciao shiver ciao perciò quando hai la camposfera di solito la mette un pokemon come eracos che ha appunto la vita dei distretti oppure addirittura peggio ancora ancora meglio c'è glycore e glycar glycar e glycore hanno bene in cura vuol dire che se sono avvelenati non perdono HP ma li recuperano quindi tu mettendo la tossicosfera e avvelenandolo anche iperavvelenandolo con la tossicosfera lui è come ti ha visto in avanti è un'immunità agli status proprio però solo al veleno in quel caso però non può essere bruciato ah no giusto siccome è avvelenato ok ok poi è tormentato bruciato eccetera eccetera puoi avere un effetto di status questa la volta hai capito solo l'unica cosa che va oltre questa cosa è la confusione perché è temporanea è l'unica temporanea delle quattro status dei cinque status quindi può essere analizzato e confuso oppure bruciato e confuso eccetera e confuso capito ok vabbè andiamo avanti adesso ora cosa dobbiamo fare è semplice adesso la macchina da guerra è pronta e abbiamo la macchina da guerra è pronta bisogna andare dalla palestra sì sì noi dalla palestra bruciamola viva si immagina gli altri allenatori ma chi se ne frega ma chi se ne frega no la domanda è partiamo quindi a farla con la modalità che bello mi faccio dato che abbiamo siamo in ritardo tanto comunque allora guarda probabilmente dico già da adesso con qui la avresti perso ok per chi per chi perché l'avevo già provata e so che mi sdraia appunto in modo difficile ora devi andare un attimo alla torre radio prima di andare alla palestra la torre radio in alto a sinistra sì in alto e non c'è tutto un cito delle rotaie e tu devi andare alla stessa comunque io ti dirò nel tuo salvataggio l'ho battuta con qui la vabbè orbi cioè tu hai di qua ciao tommy buonasera ciao questa è la torre radio chi vuoi moscenino smamma ma fatti da fare tu entra in quella cosa entro in cyber comunque dicevo molti molti stronzi perché sono la chimica di stronzi reputano chiara la più forte che parlare con vedi questa è la capovale con la bambina devo parlare mi presento sono una piccola chiara sai che fanno un quiz in cui si vince una scheda radio anche io sono venuta sempre per partecipare ma le domande sono difficilissime guarda guarda non devi dire mentre le pensa io dico allora qual è il problema perché molti vanno con lo starter ora di solito purtroppo oro ha questa ora argendo hanno questa problematica in tutto il gioco ci sono troppi pochi allenatori e non si riesce a livellare immagini che tu una se è a tempo oppure posso lasciare ok prima domanda è possibile vedere la mappa si tratta nel pochi e gear si ti sembra di si rispondi ciò che il tuo cuore è coglia esatta è vero che di nidorina ci sono solo esemplari femmina eh nidorina si perché c'è un nidorino ok a casa mia rispondi vai 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 per produrre le pokeball l'artigiano franzo usa le bicocche si sei sicura? no come le ghi cocche ghi cocche non bicocche le bicocche sono un'altra cosa ok passiamo subito a quarta domanda Magical per un po' usare alcune macchine tecniche ma questo non lo so io cioè che cazzo ma non gliel'ho non gliel'ho mai qui la più forte è il flash eh ma non gliel'ho mai cioè non gliel'ho mai non ho visto io non che ne so penso di sì senti l'arma più debole dell'umanità secondo te per imparare le macchine tecniche va bene se mi state percolando mi cazzo ricorda che Magical per il secondo più scatto ha detto che la serie di statistiche vabbè strepitoso ultima domanda attenzione è insieme a Dory che il professor Ok presenta la famosa trasmissione del titolo Pokémon Talk ma che minchia ne so io ma è famosissimo ma è famosissimo orbi ma a parte chi è Dory uno cioè chi cazzo è Dory ma che minchia è rispondi così alla tisa ma chi cazzo è Dory ma poi ma che domanda è ma sono sono domande del cavolo ma non lo so cioè può essere sì come può essere no che ne so hai un 50 e 50 vai per Shift F1 scusa fatti furba eh infatti io non voglio perdere i progressi e facciamo 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 di sì dai vaffanculo ops se l'hai fatta complimenti hai vinto una scheda radio perché Undertale Demiurgo male Lisa non sei preparato ma si vengono allora ora Lisa può usare il po' che dire come radio mamma mia brutta storia no Undertale lo conosco però non ho capito il collega ma sei un fenomeno e io ero convinta che la risposta alla terza domanda fosse di cocche perché oh no devo già tornare in palestra a flexare non ti stavo dicendo non voglio rispondere dove devo andare io è già finita sì sì è finita deve andare in palestra molto serio sì no ci sono i frutti che si chiamano ghi cocche cioè ti sei fatta 50 live e non hai imparato un cazzo ma she bangs a parte che in HeartGold 3 ne abbiamo fatte cioè ovunque dicevo quindi va dalla palestra io esatto perché è stata proprio dall'altra parte mi pare no no è stato a nord a nord a nord quindi dovrebbe essere il primo con un palazzo eccolo questo va a dentro che brutta allora sputtate leggiamo palestra di Ferdoropoli capopalestra chiara carina troppo carina adesso io avrei qualcosa da dire però questa è di solito la palestra dove tutti quanti cadono ok me compresa ok perché perché vabbè ti ho detto già purtroppo questo gioco ha pochissimi allenatori quindi far quadrare una squadra in questo gioco è molto difficile tu immagina che alla lega alla lega se tu alleni bene tutti i pokemon arrivi al livello 35 tutta la squadra spettate con la lega al 42 quindi sette livelli sotto il campione non ti dico a che livello è ok il campione è molto più forte al 42 e quindi e a molti che fanno diciamo utilizzano solo lo starter e qual è lo starter più utilizzato fra tutti qui lava c'è si da quindi ora qual è il problema vai vai intanto vai avanti tanto qua tutto è strano in un piccolo labirinto in delico particolare eh allora questa palestra che non la ricordo vagamente però è merda devi trovare stare e vedere è un labirintino del cazzo non c'è nessun enigma incredibile no ma posso evitare le tizie si si abbiamo le caramelle rare però no la madre che dice no nel senso non voglio farle però no si si non è verità vabbè c'è un po' forse oh che dicevo quindi vanno comunque là allora vuoi sapere una cosa brutta anche il pokemon oro originale pokemon oro originale è una cosa che non aveva questo misto anche l'abilità nascosta l'abilità almeno lei la deve fare sì tutte e due vita che dico no no oddio allora ma le possibilità no no forse no lei no un paio sono sempre obbligatoria va bene pochi non forti e carini a proposito lì visto che in stigione si è tornata sulla den ring in vista dlc un pvp tra noi si potrebbe fare eh ma io gioco su da pc eh tommy è quel problema dunque dicevi il più utilità del qui lava è fin da quello e qual è il problema è che mi stanco usa rotolamento rotolamento è tipo roccia che è super efficace contro il tipo fuoco ma non solo perché diciamo allora prendo totodale vabbè diciamo che non prendiamo ciclorida in generale perché non siamo veramente di colore prendere ma questa sono oggi vi posso si ti hanno ultimo camorrosa se prendete ciclorida in questo gioco avete dei problemi ma no avete dei problemi vi piace il design ciclorida volete mi piace anche abbastanza si siede di un po ma ok diciamo non dico che vi piace prendere un culo ma perché perché è poco ma scatto e di tipo erba io mi è brutto sto poco di tipo insetto velino volante da tutte le parte mi piace prenderlo ma però nessuno giudica le vostre fessuali al massimo vi guardiamo male ma 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 non piace eccoci ciao ciao sono chiara c'è scritto chiara due punti non eri tu alla torre radio allora vedi che vedo che alleni pokemon tutti sono nel mondo dei pokemon così ci sono entrata anch'io i pokemon sono carinissimi vuoi lottare sono forti ti avverto però che dicevo quindi quale è l'altra cosa chi ha tomf tomf che è pestone mio mio pestone che fa pestone praticamente ha un 30% di possibilità di far tentennare quindi ti dice a breccia ma quindi andiamo tutti di breccia basta no vai allora guarda perché aspetta ora ti spiego questa cosa bellissima perché li ho fatto prendere un'era cross femmina perché questo play fairy ha un'abilità nascosta calideria incantevole incantevole che se lo tocchi ti innamori eccolo e questo è il mio canacchiano qual è la cosa di questo il foglio non solo c'ha stompo ma c'ha anche buonolatte allora questa non è una sfida è tipo spararsi la croce rossa e questo è come si fa alla palestra di piano così ragazzi così che si fa la palestra potremmo farla anche alla maniera che è che devo toccare di cishibanks ma comunque non ha donato la medaglia perché l'hai fatta piangere l'hai fatta piangere oh no hai fatto piangere chiara ma sti cazzi e infatti mi stavo chiedendo manca qualcosa ma non è niente presto starà meglio fa sempre così quando perde è una mocciosa insomma sì è una mocciosa però comunque ora con Enagro è un'altra facile però andava bene anche Machop perché femmina sempre perché lei ha quattro mosse attrazione che se il pokemon non è il maschio ti fa innamorare e che è una sottospecie di paralisi quindi una volta ogni tre turni non attacchi stomp che ti fa tendennare buono latte per ricaricarsi e il rotolamento per mettere il rotolamento poi ogni attacco successivo di rotolamento diventa sempre più forte ok quindi qual è l'incanto un pokemon femmina di tipo la mia domanda è perché quando io l'ho provata la prima volta non mi è stata detta questa cosa e sono stata lì lasciata sono stata lasciata soffrire per ore dietro a sta sta stronza perché lo stavi giocando con noi bravo perché se le persone non hanno vogliono farti giocare bokeh ma ti devono anche spiegare cioè alcune cose sono fatte allora ripeto pokemon ha tanti difetti anche tanti frecci in tutto il gioco ti è stato dato un onyx quindi rotolamento fa danno dentro stomp andrea ti ha avuto metà danno attrazione onyx femmina va bene non ti prende poi c'è il gilud stessa cosa di onyx più scarso ma stessa cosa c'è un matchup che ti viene regalato nel centro medico per un quazzo di drausi che è un po' come un facilissimo da trovare puoi prendere un magnemite che è acciaio quindi resiste a tutte le cose e che è anche asessuato quindi attrazione se lo ficca nel culo attrazione se lo ficca nel culo esatto quindi ci sono millemilacinquecento modi per arare questo essere immundo io la gente si mette lì e lo vuole fare per forza solo con lo start e sono una manica di imbecini e ti faccio vedere che una manica di imbecini perché è un gioco che ti dà tutto questo è il bello dei vecchi giochi pokemon è che si è andato un po' a perdere che non erano facilissimi cioè non erano difficilissimi erano dei giochi normali di difficoltà però la gente da sempre giochi a cazzo il pokemon ti dà tutti gli strumenti che vuoi ha un buon game day ha un buon game day perché non ti manda mai a fare le cose a cazzo di carne devi parlare un altro solo chiara devo tornare a chiara si si parla madonna mia sig allora tommy non per cartiveria però è per dire cioè chiara il distruttore di si vengono chiede se è una pratica di bdsm bdsm quello che hai detto prima eccoti la medaglia piana è questa quella che vuoi questa è la traduzione del merda perché plane mi pare la plane c'è la medaglia ok medaglia sai plane ma fammi vedere sta medaglia comunque l'ho detto nelle storie su instagram lo ribadisco lo ribadisco essere invasa e aprire il culo a tutti quelli che ti invadono veramente mi sono presa la rivincita per quando per quelle volte che avevo la connessione di merda venivo stuprata praticamente su dark souls 3 adesso io e marco ci stiamo divertendo tantissimo cioè marco praticamente mette l'oggetto apposta per essere invasa da più persone perché così ci invadono più persone mamma mia carlo è morto no sto cercando la traduzione allora palice piana e va bene però forse più sì ma come è scritto scusa come è scritto il nome originale plane ah plane che vuol dire diciamo semplice quindi è la medaglia semplice semplice è la medaglia comune esatto comune plane è come se plane quando prende un vestito bianco quello viene chiamato un plane dress perché senza prodoli mamma mia orbia carlo è anche esperto di vestiti era per dire ma me la data la cosa in Italia la medaglia adesso andrà a fare in culo sta cesta del mezzo ci vediamo tra qualche live ti preoccupavo che dobbiamo fare le match di tutta un altro hai visto quella cosa poi orbi tra l'altro a proposito del ring visto che comunque io devo aiutare Marta a recuperare su pc stavo pensando quasi quasi adesso che smettiamo di con pokemon di fare anche delle live nel ring magari ma c'è saranno live nelle quali praticamente io e Marta facciamo la progressione che serve a completare il personaggio in vista del dlc e niente di cioè non finiamo il gioco un'altra cosa che volevo dire vai al negozio adesso questo qua o la porta marrone no no questa qua la rosa c'è il fiorellino tu nella nella vecchia partita che avevi fatto alla costa di no forse mi ricordo pare che sul percorso 36 si è cresciuto è sudo vudo qualcuno dice che se lo banni con acqua quello si mette a ballare ma quella è la medaglia di fiordopoli hai battuto la fortissima chi è fortissima allora posso darti l'annaffiatoio senza problemi quindi andiamo a annaffiare sudo vudo anche ti devo fare una domanda prima cosa salva adesso tanto abbiamo fatto chiara chiara l'abbiamo fatto salva e soprattutto vai a prendere delle megaball ti volevo dire questa è una domanda importante ma nella vecchia partita ok concentra la tua memoria un attimo hai mai fatto la gara piglia mosche una gara piglia mosche ehi se mi dici cosa devi fare sta gara atturare dei pokemon tipo polio in una gara vai a prendere le megaball megaball che vive tutto un gol comunque ti ho dato dei super repellenti ma non ne ho memoria di questa cosa ok quindi diciamo di no secondo me no cioè allora il nome mi suona familiare però non mi ricordo che ve l'ho fatto ok 1 2 mi hai fatto il pocketlon no ok questa cosa ce la teniamo per quando ritorniamo vabbè l'orbitra segni un attimo tu e quando torniamo facciamo la gara piglia mosche no prendiamo mosche pocketlon tanto sì questo ce lo teniamo per quando arriva la vera blind devo cambiare qualcuno una squadra no bene così metti al massimo forse vabbè togli adesso e la cross davanti questa macchina da combattimento può riposarsi metti gli altri o vermi o blade per la prossima palestra il level cup è il 25 quindi sei a posto allora dov'è un negozio dall'altra parte mi pare che proprio il primo piano che è vendere bold tanto lo scrivo qua tanto lo scrivo manca ah no qua un palazzo questo cioè ti sei fatto 50 oh allora ma sta parlando sta parlando di quando io ho giocato earth gold da sola cioè da sola vabbè più o meno dai no però era no a primo piano questo è piano terzo c'è joseph jostar qui ora 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 no veramente salve buon uomo compra lui non è forse la no lei che non è questo no ma forse ma forse questo è già vendere ultra buon vediamo questo lo voglio ma la voglio ah vendi le pepite dai tanto comunque deve essere pepite orbi anche le pelle allora pepite ma io volevo vendere di certo non le troverai qua ma posso andare a cercarle da un'altra parte destra qua se vuoi puoi fare rivolvere appena finiamo la cosa puoi fare rivolvere dopo elettropalla e anche ministra pepite e perdo ma quanto mi vendo ci sono anche le grande perle vai basta 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 ok posso darti 700.000 va bene guardi faccio lei dove si ne aveva nella cassa dentro ultra bol compra no ultra 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 proprio con le ultra bol ma si si è inutile buttiamo vai fai ne una ventina dai ok si va tanto raga è per catturare i pochi ma cioè però rendi conto che io avevo 70.000 poche dollari dentro la nostra ma noi erano 700.000 ho letto male c'è di a piano terra dai cazzo da 700.000 no voglio andare a secondo piano vai io volevo la quale bambola in realtà tu adesso dato che noi te l'abbiamo data la per come la coperta dove si prendiva più o meno si bengs allora mi chiamò la quinta palestra la quinta si ok ok allora no allora non lo può fare vai a nord adesso vai vai esplora vai tutto a nord got explore got explore ma sono dovuto era indietro ma io voglio andare indietro come si chiama sono dovuto e avanti no metalcore corto ma sta più avanti oh di toro è forza no poi si sono sa più allenatori forzali ma è la palestra anch'io ma chi ti vuole bullpix oh che bella ah no guardi tu la endgame la prendi la prendi praticamente con le m chi potrei mettere al posto di verni c'è roccio quando è che la prendi dopo la riga c'era madonna ah mi pare che c'era qualcosa che c'era da va bene pover fangata roccio tomba oppla ah pure Cooper ora per esempio potresti togliere macho e mettere Cooper vabbè non adesso subito però per le rocce Cooper mio figlio momenti arriate aveva battuto la palestra per portare tutte le allora qua in questa erba vai a vedere un attimo vai avanti perché sta di saltare quanti generatori possibili non vuole perché vorresti dire che non è bravo a usare il randello dopo le pizze di ieri sera le pizze di ieri sera sì perché è usato la panola hai fatto la pizza hai detto sì ma stasera non ieri eh vabbè a cretta che percorsi è questa andiamo fuoco a digret direi proprio di no vuoi vabbè root si andiamo di fuoco lo stesso dai comunque ti danno macho poi te lo danno maschio Carlo giusto perché non vogliono aiutare si ma andiamo a bruciargli la casa comunque non potevi prendere un g un magnemite ok puoi prendere che è attestuato puoi prendere un g youtube femmina puoi prendere un onyx femmina comunque c'era i modi per farla comunque gente stamattina penso di aver avuto l'esperienza l'esperienza in macchina peggiore della mia vita perché no ieri non aveva fatto le pizze visto le storie eh l'ha fatta anche l'altro giorno non ieri mi sono già dimenticata che chiami in campo siamo a questo livello fai il mio pulito allora in questo percorso qua nell'erba puoi trovare i due nidoran massi e femmina oh ok puoi trovare utut ce ce l'hai pigi ce ce l'hai e puoi trovare all'un per cento questo è l'altro dico poi come ti basteremo noi perché terrà l'un per cento mi rompo il can ma che è tutto scherzo ろ questo ti gira come ti giri tu guarda forse come bisogna giocci e quindi ma perchè se ce l'ho fai l'anenatore questo non è un'anenatore della quindi veramente di notte non è naturale poche devi passare devi passare la notte è piena di pericoli e perché non siamo giorno ci sono in bogemann diamante vicino nei corridori e questi occhio che ti manganella caso non mi stupirebbe non mi stupirebbe davvero ciao alex buonasera che volito king è una bestia il dito king è uno di poco più sottovalutati mi sembra non ho capito per chi sai che sta girando un po il culo di testa contento perché perché buona combo con i leggendari è sempre stato ma ora non c'ha pura forza ricchi guardia direi che ci fa passare adesso e di qua tu qua chiamma vediamo te culo chiamma ai due nidoran ci stanno qua dentro anche ditto in realtà ditto però al quattro per cento brauzzi brauzzi ce l'abbiamo già mi tocca far l'incontro con questo qua acqua e ti salti una parte in realtà se stagli quest'albero però te la voglio far vedere perché così sappiamo già dove andare lui è giro veno nato che carino non è lì fuoco paura veno nato dormito poco no non è che ho dormito poco chi è che ha dormito poco allora ruota fuoco glielo mettiamo nome del genere forse forse togli azione anche tenuto a poco mi pare che figlio invece verni è un attaccante speciale massacrano di manga nel latte si vengono stai calmo però no non vuoi sì da allora tagliando quest'alberello puoi saltare una parte ma no perché non tagliare perché di sboscare oh è lui allora aspetta sicuramente lo ammazzo no non è vero sono ultra ball si è ultra ball a parte che forse è una botta rapida gli avutività ma perché ammettigli pure esamomo aspetta vuoi disegnare un paio di poco ma cosa faccio attacco rapido lo faccio poi si fa attacco la roma allora mettiamo il nuovo nel box mettiamo nel caso non si sa mai chiamma che all'un per cento col cazzo che lo prendi chiamma è bellino è la libellula bellina molto in realtà è anche secondo me molto forte come poto ma perché è un colliottero volante è attaccante speciale molto veloce ma in più ha anche un'abilità che è rotta e acceleratore ogni turno aumenta la velocità cos'è che devo cercare qua dentro anche c'è l'altro nidoran oh ultraball no questo scappa primo turno ultraball vai hai imparato ha imparato brava orbica è contento come con i figli fare pat 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 la testa anche erano pure perché al 25 per cento però è solo durante il mezzogiorno ma abbra tra l'altro cazzo sa qui ho la carta o c'è anche lì edona poi andiamo nel 1 per cento ma li ha trovati uno di fila all'altro dubiti sì ma i gambe all'1 per cento ma tu stai dubitando di lisa io sto dubitando dell'uomo l'ho ucciso porca di quella puttana l'hai ammazzato ma porco mio sei stata rapidi non ho manco visto con sciviter fè uno mamma mia che quanto crescono c'è io voglio capire perché c'è ma gli hanno una gamba aspetta un attimo aspetta un attimo aspetta un attimo aspetta un attimo questa è giunta la sua ora esatto ora esci da qua dai un dolore intercostale quindi non proviamo a cercare la livellula no te la diamo nel boss tu stai dubitando adesso mentre uscirò di qui arriverà la livellula se c'ha la livellula sono contento però sono sicuro di una il lumpercina è la livellula no no ovviamente no vabbè abbiamo un po' d'erba per provare a catturarla si 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 e anche per fumarla è per questo Udut che c'è ma che ci vuole Udut e OPG qui è la scelta uno per cento se cammini con il resto sta cercando di perdere no esci fai la no hai fatto la vera ehi dì vai tu un per cento perdendo tempo allora praticamente vai sopra qua il martedì e il giovedì qua sulla sinistra troverai un tizio che ti dice ehi c'è una carapiglia mucca e questa cosa facciamo la possiamo ma abbiate grasso che fine ha fatto è la wave è sazia persa allora in questa erbetta non c'è un cazzo da una città ma c'è sangue che bella la musica oh guarda c'è una con persia ma veramente questo è diverso di persia sembra un biagolio parco nazionale ma c'è una nuova wave bisogna continuare quella di abbiate grasso perché noi dobbiamo andare a cena ad abbiate grasso tutti quanti ma era già organizzata ormai no 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 non dire così ci facciamo questa erba c'è caterpi il gioco è entrata di notte di notte è futu dobbiamo chiedere anche più eh no di rara non c'è niente c'è solo caterpi che già c'hai weedle no vabbè non c'è niente 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 carlo sul poche randomizer sul poche cazzo randomizer c'è un'opzione che dice di togliere gli incontri che si trovano solo nel giorno notte e festivi eccetera eh però paura sai qual è la mia paura è che poi come ricalcola le percentuali sopra 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 ma cazzo di cazzo a destra se non vedete ma cazzo a destra quella è la mia paura di qua o su? si si questo gioco c'era carazzo si si cosa di qua o su? ahia destra 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 possiamo continuare la wave del papa ma io lo farei anche finire qui si ma serio cioè non diamo più spazio a questi 20 casti comunque mi sono ci sono passata in treno ma mi sono persa la fermata non sono riuscita a fare la foto mannaggia ma voi dovete mandarmele queste cose cioè però adesso vedo che c'hai eracloss con botti in testa adesso ando proprio a fare vicino ad un albero botti in testa vuoi essere che ci esce un pinico o un execute oh ok o nessuno o nessuno eeeh dove vado? e' un po' il percorso 36 guarda chi che non ha visto l'animazione? tu che non hai visto l'animazione? minchia vai vai alex il papa che ha detto la storia della forciaggine metti nooo lita ma lo vuoi dire? ma loro lo sanno benissimo che io non lo dico con quell'intento qui cioè vorrei anche che una persona mi segnalasse apposta per sta cosa veramente gli ridi in faccia il santri era al 5% dove passo? qua giù ecco qua è obbligato allora se andavi da sotto tagliami l'alberello non la polpo di vino un panno guarda che l'alberello non le tagliando guarda che l'alberello non le tagliando oddio mio a scanio lascia entrare scanio l'8 di gennaio esatto allora cbanks lisa iscritto in caps lock che ho detto cosa ho fatto la settimana scorsa non ci sono manco avvicinato per sbaglio cbanks 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 non si dicono queste cose ma allora ma la solaia può dire quello che vuole no ma è sto discorso sapete che lo sto dicendo per riportare l'informazione non può prendere per il culo parlando di altro così vogliamo orbi per fare dei testi con quella cosa perchè così se come per esempio c'è graulit che sta solo di giorno e di notte non c'è ho tutto hai capito in certo tempo tutto 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 anche se non risponda mia mamma oddio rispondiamo subito madonna che cazzo dici non risponda mamma ti ho comprato uno strumento utile usato i tuoi soldi ho fatto bene madonna dovevi chiedermelo ho consigliato il dono al postino perciò passo al po' con un market va bene va bene grazie vado immaginati che c'è un postino che ti insegue dove sei nel poker market eccolo qui guarda salvo salvo sei qual è la classificazione di sudorudo? eh ogni pokemon ha la sua classificazione nel senso dice tipo pokemon ratto, pokemon tovo, pokemon fuoco eccetera sai qual è la sua? eh pokemon bugiardo era fintalbero Alex praticamente riassume quello che ogni tanto vorrei fare io però era fintalbero io sono niri del negozio di fiori senti senti che notizia ho provato ad annaffiare un albero che si muoveva penso un po' si è sollevato cioè se non lo portavo io lo annaffiatavo qua e nessuno faceva niente no cioè vai si usa l'annaffiatore una cosa mia da fare è mettere plastiche con tononda una cosa più soft che pensa è quella si in effetti no ho capito aspetta frattito l'onda colpo basso vabbè infatico vabbè vabbè e quindi via che si cattura a full vita due danni vinta vai ora vai a full vita basta l'idea ah non potete nani un paio di danni oh oh ma stiamo spazzando cacchio non ho fatto un shift f1 vabbè palla a testa hai tu uno shock mh mh però su un'onda lo ammasso? no no con l'onda non gli fa danno no avvenisce vabbè comunque puoi anche cambiare portone eh ci hai metto qualcun altro se per una volta è paralizzato funziona così è paralizzato per si ma che un letto allora che resiste ai sedi danni roccio o muscolo? muscolo a me lo dici a colpo basso giù faiiii mmm c'è affatto si ma basta vabbè roccio è morto dentro qua è statificabile roccio ma c'è giù ma perchè ha fatto placere? non so ora puoi provare a catturare hai solo il 29% che va bene lo stesso eh guai poche malimitazione venti dalle per cento a tic si imitazione se bene che adesso non altro la composizione sembra più simile a quella di una roccia beh lui è tipo roccia non è tipo ero ma questo lo ha inietto non è debole al fuoco eh tanto fa no non c'è perché in realtà lui dovrebbe rappresentare gli alberi secoli non so se conoscete la foresta degli alberi di pietra sii e quello dovrebbe rappresentare tu che ne puoi parlare meglio? fai no in realtà non sono abbastanza competente quindi vabbè negli Stati Uniti d'America c'è una foresta con degli alberi che si sono pietrificati le cose che sono talmente vecchi questo diventa di pietra da quello che so eh però è quello che dovrebbero rappresentare quel tipo di alberi in realtà alla materia organica capita di cioè è un procedimento comune quello della mineralizzazione della materia organica che praticamente praticamente porta la materia organica ad assumere la forma tipo di di non so come dire direi minerale ma è sbagliato di qualcosa di inerte come può essere un minerale ecco diciamo così salva salva ora di andare in alto a sinistra in alto a sinistra ma quindi tornare indietro? no 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 in alto in alto a sinistra ah ok perché non ho visto che c'era la curva sì sì che c'è la curva comunque prima dicevo che stamattina ho avuto un'esperienza traumatica in alto perché veramente nella parte della tendenziale di Milano in cui sono andata ho visto delle robe che non le avevo mai viste in vita mia di qua? sì sì ah tu dici quella quella della brutta esperienza in macchina sì adesso mi chiedono di sicuro una delle due figure atto non lo so c'è che mi pigliano tutte e due ah wow questa è in doppio, signorita che bello del tipo racconta eh di persone che sono state costantemente nella corsia d'emergenza tipo ora voi dite che cosa devo commentare a mio cognato che mi manda foto di mio fratello che si è infilato dei pantaloni di busta di riciclo dicendo ha paura di restare incini perché il tema di non capire si penso veramente sono sono confusa eh ci penso che sono le 23 e siamo tutti stanchi dalla porta no bella cosa non togli non togli verni ma togli roccio devi usare parole più elementali ci sono indietro ancora e non lo lascio dai bravire cambia lui con con Eragross di te? vabbè dopo su dai 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 sì non ho capito Shibanks veramente metronomo forse è meglio non specificare ma dimostrare in privato vabbè no ma anche no guarda no ma interessa a me no perché ma non voglio dormire stanotte non voglio sapere mi manda affatto il mio fratello che si è infilato di pantaloni di busta di scena lisa curiosa per la scienza è praticamente di queste persone che sono state costantemente nella nella corsia d'emergenza dell'autostrada ma facendo dei passaggi di corsia tra l'altro che dire i sorpassi come si chiama non pericolosi i sorpassi non mi vedo la parola criminali? no no mi viene in mente che è criminali ma criminali come è giusto? non criminali ma che cacchio è? cos'è? vai ci ricordo che è stable non brutali c'è proprio una parola affatto ma anche me? ma cosa anche te ma che cacchio ma perché? ma perché dovrebbe cioè quello che non capisco io è perché dovrebbe rimanere incinta è questo che non capisco no mamma non ti rispondo scusami Amarantopoli che bello entra il tuo centro medico ah da notare che il centro medico però ha un colore diverso sì infatti perché si tende a prendere la atmosfera un po' più pacata di Amarantopoli Amarantopoli è una città molto antica ah ma è Bill ma scusa questa è la città della cosa che è andata in fiamme esatto siamo arrivati alla fine del nostro primo partito del nostro piano conosci la regione di Owen? Michela che vive lì? Michela ha semplificato moltissimo il sistema di deposito sì ok in cosa di Bill l'abbiamo capito me ne tolgo il terzo roppoli oh po po ok ok adesso andiamo a fare quella cosa che hai detto tu la torre di Amarantopoli sta in alto assinno tu mica sei entrato in una di queste case nella vecchia partita in questa casa qua non sei mai entrata giusto? non mi ricordo allora non c'entriamo dai nel dubbio non entriamo però la torre me la ricordo perché ho visto è qua? no destra no 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 tu nord ecco la torre che era qui prima era molto più alta finchè non c'è stato un incendio mhm Amarantopoli ti racconta tutta la storia di della torre bruciata torre bruciata? eccoli ti ho scritto una postilla vediamo la postilla c'è due sono ah eh non lo sapevo Shibangia perdon cioè non lo sapevo ma ora è più chiara la cosa ma con chi dei due devo parlare? vabbè eugenius eugenius sono sulle tracce di un pokemon chiamato Suicune che è esattamente laggiù e tu sei? Lisa piacere di conoscerti dicono che Suicune si aggiri da queste parti ma a me fa ridere perchè il nome del pokemon è in caps lock quindi sembra che lui fa faccia tipo dicono che Suicune così si aggiri da queste parti così sono voluta vedere provo un po' spirciare da quel fuoco è lì sotto passa che si affaccia eh ma infatti si vede sui Cune così potrei anche andare giù e guardarli ma quelli scapperebbero in un secondo ed ecco dove mi sono fermata io nella mia precedente partita di art gold a inseguire queste bestie in giro per il mondo domani indagherò non so perchè sia vestito così seriamente domani indagherò indagaci ok con questo vado che non so chi devo parlare eh indovina un po' chi c'è ah no la rivale non so che è lì c'è giù che vai 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 soul ah sei tu soul goodman tanto lo so che sei qui per catturare il pokemon leggendare che si aggirano da queste parti e per far credere a tutti di essere forte ma per te non c'è storia i pokemon leggendari si addicono a me che ho giurato di diventare del notore più forte a te invece sta bene un posto da tirapiedi nel team rocket a caso che non è così male come sembra si beh non è proprio così a casa eh wow ghastly chissà come lo arremo male chissà come lo arremo e non è molto più a poco a ticara la verità che bella leccata parale oh no la bella di un po' trenta per cento dai è la madonna è proprio struzzi sei suicidato per fatti danno sì a me fa morire sta cosa tipo che sta morendo il pokemon ok suicidiamoci verni è colpito dalla maledizione croconautoi croconau via cambia pokémon e mettiamo 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 blade che ricordo mi dispiace ma non mi piace proprio farlo soffrire certo e poi torna shock in realtà potresti portarlo al 19 vegli attivo vabbè morma è stato tagliare fatta però dovava se non dove il divertimento che aveva tanto già già l'arato però era per dire vuoi portare adeguata che la vostra valetta qualche buona nel gioco per bambini facili e la madonna su barco di marire chiamare la prossima terci anche roccio voleva fare un po di esperienza blitz però non c'è stato al 18 che se giochi normale sto gioco è difficile sai perché perché non ci sono allenatori si rimane quello che ho detto prima sono pochissimi allenatori scusate continuo a prendere contro il microfono purtroppo è un difetto ci hanno hanno aggiunto qualche allenatore però il problema è un altro secondo me non è tanto che sono pochi allenatori che a un certo punto poi ti farò vedere c'è una moria di allenatori porti c'è un certo punto tu sei arrivato al 25 tipo al 30 e allora sono ancora al sì che non va bene che bello che amato noi quindi è un paio mi ricordo beh l'abitare in un entono so che io avevo il tipo per fortuna non ancora una bomba niente un bagno super suono ma basta confondermi tutti poi metterò era grosso breccia acciaio acciaio poi chiare l'accia ricordati puoi picchiare l'acciaio sì ma è che questa cosa secondo me non ha senso è per quella che non me la ricordo allora perché devi tenere conto che i tipolotte in realtà ci sono i tipi arti marziali allora ci sono i tipi si ma con una manata non rompi l'acciaio dio minimo se ti alleni per 25 anni guardate guardate come stanno dabbando giù in realtà si può fare che basta avere basta colpire allora aspettate un attimo che voglio fare uno screen di questi... di questi tre devi scendere l'estraneo questa di qua oh non posso andare qui fine e poi guardate ma però si vede un male ma perchè non si gira a cosa? giocatemi bravo è il mio pokemon che è più carino in un modo lui si gira guarda quanto è... sembra una disarmonica quando ho posto ma fa riderissimo no sembra che fassi tipo ma vai sorpasso è pericoloso eh come non è in mente altro che sorpasso è pericoloso no devi scendere le scale ma non devo prendere la pokeball che la oh! una pantegana una mega pantegana no davvero si è volverato tra i raffichi vabbè di questo dicendo ma sono sulle scale eh vabbè allora qua si trovano rattata, radighetto veramente zubat e koffing e appena di sotto anche magmar ci ho dato 27 miliardi di repellenti maximum però magmar solo di giorno però quando è che scappano questi qua? appena di avvicini appena di avvicini porca miseria eh e facci lo sfido mentre vibravano ma veramente poi sui cune ti avvicina qua ehi perchè ti guarda sui cune e poi va via? e che... in verità ti dice fai schifo fai schifo schifo hai visto anche tu? hai visto anche tu? ho visto sui cune corre con la voce della tipo google un full meno proprio davanti a me che ho giocato per dieci anni ma non l'avevo mai vista da di qua vicino ma scusatemi eh se loro sono sempre stati in quel buco lì lui l'ha cercato per dieci anni allora in pokemon non ti sanno affacciare te non uscite mai di casa in verità loro sono in 2D come fanno a piegarsi? pare che i pokemon leggendari di amarantopoli si avvicinino soltanto a persone di cui sentono la forza continuano a seguire sui cune con ancora più ottimismo fatto come te ti saluto e poi era sopra poteva lanciare una master ball da sopra si infatti da sopra la lanciavi e fine via allora adesso è sbloccato le 3 bestie leggendarie che sono in giro per la mappa esatto dato che noi ci rompiamo le palle di fare le cose come i sviluppatori hanno pensato male ti abbiamo dato le master ball quindi se li vedi vedi è Entei qua per te sei sicura no no Entei questo è Raikou questo è Raikou ma perchè gli altri non si vedono scusami allora la cosa poi ti spiego come si catturano però io non lo facciamo adesso lo faccio in un'altra live si ma aspetta tu ti stai sbagliando di una cosa non potrà mai incontrare Entei si ma va girano a parte sui cune gira dopo Entei molto no gira sempre tutta la mappa anche Raikou allora io quando l'ho giocato ho memoria del fatto che c'era sia lui Raikou sia Entei esatto solo che Entei è sbucato Entei è sbucato all'improvviso ce l'ho trovato a culo allora cune ha un evento cioè non un evento nel senso quelli la speciali come quello la che ti aveva fatto fare noi per prendere Zoro a Zoro a che compagnia cantante no ha un evento nel senso è come oh come Lugyo lo troviamo a un certo punto fermo come un cretino e quindi ciao Entei e Raikou invece no si muovono per tutta la mappa vanno abbastanza in maniera casuale e l'unico modo per prenderli è fagli danno poi usare malo perché ogni turno dopo un turno scappano e hanno anche boato quindi avrei bisogno che si faceva prima usando malo sguardo di Hunter o Gengar lo indebolivi con paralizzando tranne Raikou che lo addormentavi gli facevi scendere l'energia e provi a buttargli due o tre bull e questo ripeti questa cosa fin quando non lo ho fatto poi gli scappa lo rifai tanto che gli HP gli rimangono ok di quanto gli è elevato quindi quando lo rincontrerai gli stessi HP che gli ho trovato l'altra volta devi solo riaddormentare il problema casomai è tipo Raikou e trovare un Pokémon più veloce di Raikou che è abbastanza veloci e in te è un po' più facile ma ti avevo dato le Master Ball in questo modo perché sennò è una cosa tediosa, lunga, stupida ma a parte che ho già provato a farlo quindi basta l'esperienza c'è già stata ti ricordi no Tornadus in Pokémon nero? si 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 portando che Tornadus almeno sai che sta lì perché c'è la pioggia ti ricordi no c'è il vento, la pioggia cioè qua invece è completamente casuale che non sai non c'è un prompt, ok? diciamo così adesso esci dalla torre vedete che abbiamo un'oretta proviamo a catturarlo vai per finire vuoi fare il metodo bello? no c'è avanti indietro quello classico è bello quello minchia è il metodo migliore uso repellente ma mi pare nella prima pagina sempre qua però nella prima pagina di cercarlo un po' è repellente quindi è nella R ma è l'ordine alfabetico eh è l'ordine alfabetico vai la R oddio per la prima volta è in ordine alfabetico che bello io gli ho messo in ordine alfabetico ci ho messo due ore ah tu grazie secondo te il gioco ti fa queste cose ma va fa cagare sto gioco di merda eh sì ehm allora come si fa allora adesso devo cerci vedere allora esci dall'uscita a sud ok di Amalantopoli non ti preoccupare del repellente funzionano lo stesso modo non ti preoccupare del repellente funzionano lo stesso modo ok vedi questo portone e quindi quando esce la sfitta percorso apri il menu pochi gear pochi gear e vedo e sta eh vedi che c'hai eh vedi che c'hai erano sovrapposti perché ok vedi un coglione a ciò e rifai a fai sopra e giù quindi fai a sparire la scritta Amalantopoli fuori scendi scendi ah il menu e si sono spostati di poco si è ah è a caso con feronetto vai sali guarda scendi apri la mano pochi gear solo in te si è spostato l'altro sta bene lì c'ha voglia non ti far se provi a volare da quella parte si che è quello che ho fatto io quando giocavo che volavo inculando e lui andava la cosa migliore sarebbe tra due percorsi no se prendi se prendi un cambio di mappa è un cambio di mappa tra due percorsi capito il percorso 35 percorso 36 percorso 35 percorso 36 capito? si ma allora ci sposto si però hai capito hai doppio delle chance che tu per qua apri la mappa giù apri la mappa capito come fai? ovviamente sottipiedi praticamente esatto andiamo e qua per questo immagini che shiny lo sai vero che sei shiny una volta e shiny per sempre è una cosa che però forse sarà l'anno sarà una striscienata sai quella eh probabilmente è solto hai capito? allora non va bene la prova no ma non c'è nessun caricamento vabbè ma faccio shift f1 vai scendi vai in quest'erba prova a girare un poco qui? si si va bene va bene corri un po' corri un po' ok no secondo me è un altro percorso apri la mappa un'altra volta qua è una zona un po' di merda perché e infatti sale la parte dritta capito? no no non va bene devi rifarlo devi rifarlo vai sopra scendi si no no rimetto rimettiamo quando ok apri la mappa no se nemmeno la zona con tutti e due uno sopra l'altro vai scendi vai scendi vai aveva una mappa quanto è bella sta cosa commentiamola voglio sapere voi te la chat no ma fa una roba del genere non vi siete dei coglioni non lo so io si cosa lo so e ti assurerà e ti assurerà eeeh eeeh però se vai di la ti perdi lo stesso ogni carica ogni caricamento di mappa ogni volta che c'è questa ogni volta che c'è un cambio di scritta quello è un caricamento di mappa ha saltato dall'altra parte saltato tra le montagne vedi vedi queste meccaniche di merda di game freak ma poi almeno avesse uno schema nel movimento non a caso c'è rai co sta facendo le medaglie mi sta facendo il giro delle palestre dai co medaglia allenatore mi sa che lì ha trovato sta facendo il team sta allenando il team il monte cazzo il monte cazzo vedi guardalo dov'è sta tornando a casa no dove è il tei è qua il tei dove sei tu e quindi ma guarda che c'è una macchia guarda guarda dietro lisa che c'è non si può fare lo zoom ah ok è vero fai lo zoom x c'è la lente no non lo fa non si sposta premì sulla lente col mouse si guarda dietro e dietro sposta il cursore no sposta il cursore poi fai lo zoom e mi sa che è quasi prova a girare un po' nell'erba io vedi però sempre con repellente si girando dell'erba con repellente per borsa c'è una piccola c'è una piccola c'è una piccola dai shift f1 ma secondo me non è lì perché sennò ti ricordi che è quello ah no invece non lampeggiano oooh il mio preferito dai bigliana master ball questa cosa non la voglio di fare mai master ball ma per il meme è una ultra ball prima con shift f1 si dai c'è anche la rapid ball fai shift f1 eh ma cosa fai è la rapid ball la rapid ball dov'è luca che deve vedere questa roba no vai sei andato vai hai solo hai solo il 4% dai guardi anche secondo me infatti f1 eh ma fa shift f1 vai con la master ball o puoi provare una pokeball vaffanculo guarda raga è levato è pure acqua non serva ovviamente non lo vuoi usare si abbaia fai ruttare vulcani spuocca la sua incontrino potenza correndo da pericolo correndo contro i muri perchè perchè vuole sapere perchè è cretino perchè è cretino eh salva adesso ah abbiamo catturato il primo leggetario diciamoci la vita quanto è epico catturare un po' che non in questo qua a questo punto guardare la mappa se c'è anche le cose spostato eh no guardiamo guardiamo si a questo punto prendili entrambi e basta si allora vi dico solo una cosa io mezzanotte però volevo chiudere perchè sono stamattina mi sono svilata prestissimo facciamo dieci minuti di testa e poi basta intanto ormai abbiamo finito quello che dobbiamo fare dall'algiù da farsi che sta proprio in vacanza le cose si fa la si fa la quella cosa la villeggiatura si fa la quascina si fa i fagli attenzione però se ci metti noi qualche quanti porai comu non possono farsi i fagli perchè sono super efficace che stile questa cosa qui questa cosa merita merita di finire tra le quote del canale comunque che cosa sta andando alla godina a prendere geridos oh non andiamo a prendere geridos eh tra 20 rai quando torniamo ma è stata una delle prime cose che ho preso quando ho giocato da no non va bene sta arrivando sta arrivando sta arrivando allora se prende geridos ross vuol dire che si è arrivata a 3 quarti di gioco quindi ho preso geridos ross se lo tu hai immaginato se no vuol dire che ho fatto proprio la quarta palestra perchè c'è un blocco e troverai andarsi in sedesse ci sono due tipi che ti dicono un po' capito guarda li stai flashando penso che il disco ti abbia censurato eh l'ho fatto più ah ti stai autocensurato 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 applica della censura a se stesso ehm per dipittire le belle belle lente cosa c'è ho detto orbita ho detto orbita e quindi mi ha fatto ridere oggi corri da cazzo laggiù ma ma questa cosa c'è una data con i più uniche cosa bellissima guarda shift f1 shift f1 e master ball mi piace no rapid ball rapid ball rapid ball rapid ball ma c'è una monica rapid ball ma che entra hai solo il 4% vaffanculo va vaffanculo va vaffanculo va vaffanculo va non c'è neanche provato ma che volo ma che volo ma che volo mi ascolti mai lisa che palle vai go abbiamo preso grazie alle nobili pioggia che ha con sé lancia fulmini a volontà pare che sia arrivato con un lampo bravo lui no era un sconeggio in vero era una scuola in vero no era una scuola ok in vero abbiamo finito bene buonanotte con il botte raga no allora aspetta carlo dunque avere fretta infatti risponde la mamma questo punto ma risponde va vero va a cagare mamma 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 ma andiamo a prendere gli strumenti ma andiamo a prendere gli strumenti dai andiamo a prendere gli strumenti e dove è il pokemon market qua destra 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 è l'unico blu ecco eccoci qua c'è l'unico grazie allora scusate che sta passando l'ambulanza è sedita una bacca merda bacca cacao no bacca cacao bacca cacao bacca cacao l'hai detto eh ok è seduto bacca bacca come si legge? baccasx bacca sanna bacca sanna bacca sanna c'è una ix lì è presente il sannax giusto? ma è quello non è quello non è quello non è quello va bene va bene è la bacca per allergie va bene allora allora questa qui come dicevamo prima è l'ultima live diciamo prima delle fere diciamo così anche se perché sapete che siccome il 21 è Elden Ring non volevano lasciare a mezzo la serie quindi la fermiamo tutti i nomi facili da leggere no davvero e quindi per il momento ci fermiamo quando la riprenderemo ovvero dopo Elden Ring praticamente saremo nella vera parte blind del gioco perché effettivamente tutto quello che abbiamo visto io l'avevo già fatto ok tranne la cattura dei leggendari che avevo tentato però insomma li avevo fatti nella maniera totalmente epica queste cose nella maniera stupida ecco cioè nella maniera stupida nella maniera di una persona che non sa come si fa ecco e niente dopo Elden Ring per cui nel 2000 no allora i piani sono io vi devo dire la verità i piani sarebbero che entro Natale 2024 finiamo bianconero 2 i piani ideali non accadrà mai no non accadrà mai poi dopodiché non accadrà mai va bene poi dopodiché allora il piano lo sapete chi non lo sapesse qua in ciò ma perché perché ci sono dei piani sì abbiamo diviso diciamo una serie pokemon in due fasi per ora una terza da costruire in realtà la prima fase è la fase quella la abbiamo detto di pokemon quelli diciamo il massimo splendore dell'epoca pokemon abbiamo iniziato corrotto fuoco siamo andati su pokemon bianco oro argento bianconero 2 che sono secondo me i quattro giochi insieme anche a smeraldo che però smeraldo già è stato giocato la vita i giochi pokemon migliori che ci sono ok e qui veramente non c'è nulla da discutere il migliore scarletto violente poi in realtà ci mancherebbe anche platino però platino lo teniamo per la fase 2 perché passiamo ai remake di fase 2 del nostro cinematic universe il crossover universe il crossover universe esatto in cui passiamo ai remake di terza generazione che iniziano ha giocato la terza generazione quindi sarebbe carino secondo me fargliela riscoprire tramite il remake che in questo caso purtroppo sarà pokemon alpha sapphire mi spiace era meglio rubinomega la fase 2 solo se arriva forti c'è stato carlo ancora con questa cazzo rubinomega rubinomega uber ales poi facciamo rubinomega poi facciamo il remake di diamante e perra che però verrà moddato per renderlo platino infatti si chiamerà illumination platinum appositamente e poi dopo che sarà tipo la fase penso anche quella abbastanza alta perché comunque parliamo di tutta la loro si parlerà della lore di pokemon ok qua abbiamo delle storie la seconda fase abbiamo la lore perché diamante e perra introduce il concetto di divinità rubino e zaffiro e smeraldo comunque il concetto che ci sono dei pokemon che hanno in mano il potere degli elementi ma proprio cioè ha che ne so come si chiama chiogre ha potere di innalzare i mari a suo piacimento per dirne una eh Grodon invece ha una forza cosmica in un piccolo spazio vitale e soprattutto in un cervello piccolo evidentemente e poi abbiamo le divinità appunto pokemon lo spazio il tempo e infatti finirà con la leggenda arseus che è proprio il culmine tutta questa di tutta questa della lore diciamo di pokemon dopo di che inizierà la fase 3 la fase 3 per ora vede solo scarlatta e violetto ora dice luca che hai il microfono basso stasera carlo forse stai lontano ah ok perci dai sono lontano scarlatta e violetto però non sappiamo ancora se fare cioè se prima di scarlatta e violetto fare un altro gioco probabilmente ultra solo ultraluna anche perchè non sono seguiti però comunque hanno in comune un po' un concetto alla base che poi verrà dispiegato e poi dopo casomai l'ultimo gioco pokemon dovrebbe essere xy in vista del fatto che dovrà uscire pokemon a z l'anno prossimo quindi ok poi non so ci mancherebbe solo spade scudo in realtà a quel punto quindi può essere che facciamo scarlatta ultraluna scarlatto violetto che è rimasto spade scudo e poi facciamo leggenda archeus dopo la massima leggenda zeus lo pensiamo dopo più dopo platino allora va bene cioè a fase 2 rubino zaffiro platino arseus poi cosa facciamo probabilmente ultraluna come vediamo probabilmente lo decidiamo calatta e violetto poi forse spade scudo pokemon z probabilmente pokemon z poi sarà fatto in nazzlock però faremo una tipo una easylock giusto perché per far esprimere un po' il concetto di non delle regole che poi e orbi faremo questa è praticamente finiremo tutti i giochi pokémon entro e spero il 2026 a meno che uno di tra i orbi non ho lisa ci lasciamo le pinne ma eh adesso tra tutte le cose che potevano succedere quella va bene ci sarà proprio Carlo allora ma lo spero ma lo spero allora finiamo così abbiamo chiarito un attimo quello che volevamo fare anche se l'avamo detto all'inizio ma bene ribaderlo e allora noi con l'altra live ci vediamo venerdì non so ancora se facciamo nine souls o medieval anche se è più probabile che faremo nine souls e vi preannuncio già che la prossima settimana probabilmente ho solo una serata disponibile per fare live quindi poi vedremo ci diciamo che ho delle ci chiamano delle voglioni quindi addio però Carlo terrà ovviamente le live accese per supportare il canale cioè questo è ovvio ma scontato Carlo è libero da noi va a letta le 10 e mezzo vabbè altra cosa che volevo chiedere mi spieghi anche prima di voi stronzi ma questo ma questo è un parere questo è un parere che chiedo a voi dopo vabbè che l'emulatore poco non è molto pesante quindi non fa molto testo volevo sapere se la webcam la vedete bene stasera l'avete vista bene se non c'erano cambiamenti rispetto all'altra volta proprio ho fatto qualche qualche maghezzino e volevo sapere se si vedeva bene ugualmente e niente quindi con venerdì ci aggiorniamo ve lo dico io e oggi sembrava tutto ok va bene vabbè ripeto che fa poco testo come test scusatemi il gioco di parole perché è veramente leggerissimo un po' c'è Luca in chat mh vabbè finisci di questa cosa così dico no no io ho finito e niente per venerdì ci ci aggiorniamo e e vediamo ma se aveva Luca altre domande dato che comunque avevamo finito se aveva delle domande che oggi aveva fatto ah si si delle domande ha fatto una domanda in chat e io gli ho risposto però se non era chiaro qualcosa parla adesso lo facci per sempre si si madonna no se vuoi chiedere qualcos'altro visto che oggi sul gruppo avevi chiesto qualcosa relativo a Bloodborne Demon's Souls ecco ovviamente penso che anche Rita ecco condivide la cosa e dovete chiedere anche durante le live potete chiedere qualche consiglio cosa cazzo ci abbiamo da fare abbiamo giocato a Pokemon alla fine è trattati di di scienza quindi sì e tra l'altro e tra l'altro cioè mi sento mi sento di condividere quello che dice Carlo proprio per il fatto che cioè dopo averlo provato a me ci sono dei punti proprio iniziali iniziali del gioco che mi era fatto girare i coglioni di Demon's Souls quindi e io penso di avere un grado di pazienza abbastanza elevato quindi mi hanno consigliato Sekiro allora secondo me Sekiro mi ha fatto alla fine mi ha fatto perché ripeto allora Bloodborne ha un combat system ok? che è molto più veloce infatti non c'è lo scudo non c'è la parata e può sembrare più difficile e forse lo è però è molto più secondo me anche semplice da capire una volta che hai capito come si fa il Perry soprattutto e non te lo spoiler ok? però è figo come si fa il Perry in Sekiro è bello se è uno Sekiro Scusa Bloodborne è bellissimo è proprio il gioco che rigioco molto più con più posso dire con più voglia perché mi diverto proprio che è proprio divertente lo state prendi mazzate oltre oltre al fatto che è più divertente non mi ricordo se l'avevamo già detta qualche volta in live questa cosa secondo me è quello con il personaggio anche nelle fasi di early game che ha comunque una velocità un movimento che ti diciamo ti pesa di meno anche all'inizio del gioco perché per esempio Dark Souls all'inizio inizio fin tanto che non livelli un po' tipo la destrezza queste cose qui per avere più stamina il tuo personaggio è inchiodato è inchiodato abbastanza sì ma più che altro in Bloodborne ti nuove anche veloce quindi ti dà proprio un feedback secondo me buono fin dai l'equipaggiamento oltre a quello oltre a quello quindi già quello l'unico difetto è che ha rispetto a che ne so un Daxos non ci sono vere e proprie build questo è l'unico difetto secondo me di Bloodborne si l'inizio del gioco scusa Luca intendevo l'inizio del gioco sarebbe l'inizio del gioco l'inizio del gioco cioè bene o male il personaggio rimane abbastanza costante cioè puoi cambiare il tipo di cioè la build deve cambiare il tipo d'armo in realtà non di più però alla fine il funzionamento è sempre lo stesso sì non hai cioè non puoi fare il mago non puoi fare il ranged e poi a parte quello cioè ti devi fondamentalmente preoccupare delle statistiche che metterai al tuo personaggio sulla base dell'arma che vuoi scegliere non tanto perché io voglio fare il piromante il mago eccetera eccetera è molto meno complesso da questo punto di vista un altro consiglio che posso dare a tutti i giocatori souls proprio tutti tra sei chi non è un discorso a parte non è un discorso a parte no però all'inizio del gioco raga la perf se volete fare i danni non concentratevi sulle statistiche di attacco come la destrezza e la forza eccetera eccetera perché non servono a un cazzo all'inizio la cosa per fare danno è potenziare l'arma quando l'arma arriva al massimo quindi a livello massimo allora lì potete fare qualche punticino in più ma io mi sono calcolato per esempio su ds3 quant'è la differenza di danno tra 50 di forza e 20 di forza 30 punti niente di che invece dall'arma più zero all'arma più di ci sono 150 punti sì anche lì dipende dipende tipo dal gioco che stai facendo perché ci sono giochi adesso non mi ricordo nello specifico quali nei quali una differenza in termini di livelli proprio di statistica ti fa la differenza altri in cui effettivamente cioè se te livelli tanto con la statistica vabbè cioè l'hai livellata un po' per il meme ecco non so come dire sì un po' per il meme sì 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 però diciamo che come regola generale prima l'arma piromante sarebbe mai sentito è una classe di Dark Souls 1 usi fuoco praticamente usi le piromanzie cioè ci sono queste magie che sono basate sul fuoco e sono le piromanzie secondo me se qualche volta organizziamo no di giocare se tu hai per esempio tu hai comprato per sbaglio Dark Souls 1 per PCI o per PS4 mettiamo in chat ti spieghiamo un paio di cose piano 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 non hai detto che ti piaccia però però possiamo fartelo apprezzare perchè a parte noi siamo molto contro si 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 c'è un mago di fuoco esatto siamo molto contro quella cosa gitgud sì no assolutamente anche perchè anche perchè non mi significa niente gitgud nel senso cioè ci sono delle cose che effettivamente devi imparare effettivamente se migliori ma nel senso che prendi più dimestichessa magari con i movimenti del tuo personaggio è è un conto altre che veramente c'è gitgud una minchia mi viene da dire vabbè non parliamo ripeto io faccio sempre l'esempio secondo me di uno dei più mi spiace la community la adora come boss perché è figa lei mamma elenia secondo me è una boss brutta proprio come design però lasciamo stare quello però appunto cioè secondo me Dark Souls è un gioco che va preso con calma con tempo con calma all'inizio soprattutto quando ci giochi la prima Dark Souls così come demons o così come Bloodborne Sekiro è un discorso un po' a parte non lo consiglio subito perché Sekiro è proprio un altro ancora sistema di combattimento completamente diverso che a me per esempio non piace a me per esempio Sekiro se sei bravo nei rhythm game vai forte praticamente press L1 a tempo to win cioè a me non piace a me piace anche un po' di sparing prendere danno dare danno cercare di capire bene dove infilarmi per dare il colpo invece lì è ok prendo il tempo della mossa ti ogni tanto devi prendere le cerchie per fare quando fanno gli appondi e qualche volta devi scappare perché gli attacchi sono imparabili ma se ecco l'altra cosa e l'altra cosa nonostante io non sia un cazzo di nessuno eccetera eccetera ma siccome sono giochi che proprio amo i Souls io non capisco le persone che ti dicono mi raccomando impara bene a fare i perri no perché ti friggi la minchia ti friggi la minchia a imparare ti friggi ti caghi il cazzo a imparare poi magari li impari e sei rimasto tipo trenta ore lì a imparare a fare il perri ti sei divertito no e allora a questo punto vai avanti e giochi come cazzo ti pare si giocare come cazzo ti pare ovviamente se qualcuno come cazzo si no beh allora ci sta ci sta a imparare è bello eh c'è anche fare i perri i perri i perri i perri i perri i perri allora c'è ci sono quelli che se li fai subito cioè anche ma anche cosa vabbè non dico niente visto che non l'ha giocato Luca però avete capito di chi sto parlando ma mi piacciono dell'astral astral clock tower ecco cioè incredibile lei c'è già il cartello scritto in testa perriatemi ehi quello perri mi please si si no ma letteralmente era dire che cos'altro mi please però vabbè cioè allora ci sono quelli così ci sono quelli così e poi quelli che effettivamente dici se sto lì a mettermi a fare i perri veramente mi girano i polloni più che altri no ma sono d'accordo sono d'accordo non è un fatto di base perché per esempio la cosa bella dei suoi cioè è un bel come Monster Hunter anche come pokemon pokemon il problema sapete quale per esempio qual è la differenza tra i source pokemon ok che pokemon è arrivato a un livello e poi ha fatto sperate che faccio una cosa posso chiuderlo pokemon in tanti si si così metto metto sotto un'altra musicina si si il problema di pokemon per esempio è che è arrivato a un picco e quello che stiamo vedendo in queste live che sono l'argento bianco nero bianco nero 2 anche sotto certi aspetti ha senso questo sarà un picco sotto certi aspetti attenzione allora poi c'è una decadenza nell'avvisto ma veramente ti scende talmente in basso ma con i soldi che hanno poi tu dici cioè non è che tu dici un indie come quelli che hanno fatto coromon come quelli che hanno fatto dipendo se volete giocare a pokemon io vi dico sempre raga giocatevi cassette giocatevi pokemon coromon giocatevi temtem ho recuperato i vecchi pokemon io oggi come oggi se vi devo dire giocate scarlatte e violetto vi dico col cazzo di un altro col cazzo di un altro proprio se neanche col tocco lo di un altro perchè non dovete neanche toccarlo e quella la cosa brutta cioè perchè io adoro a me piacciono i monster collector il mio francesco preferito è digimon ok why you say io vi invito a comprare cybersloot ok morbid adesso abbiamo fatto la condizione non è familiare non vuoi giocare ma se ci giocate a cybersloot io sto ancora io sto giocando adesso a un a un monster caccio eh il monster caccio lo devo provare pure io bellissimo eh anche a me piace proprio il concetto di collezionare le creature mi piace mi piace proprio che sia in persona con i demoni che sia appunto con dragon quest joker che sia con pokemon che sia con digimon tutti i digimon i digimon secondo me sono incredibili perchè prendono il concetto e dicono ok non ce ne fottiamo un cazzo di di che siano i digimon non sono animali quindi ci facciamo il cazzo che ci vogliamo ed escono delle robe tipo wargammon omegamon robe che tutti vabbè alziamo le mani cioè sono proprio belli proprio poi creature strane stramboidi io e carlo l'abbiamo sempre detto ci pense i digimon sono meglio dei pokemon ma di passe ma sai qual è la cosa che allora vabbè cioè la l'inizio dei digimon non i digimon in realtà sono più vecchi dei pokemon perchè nascono come un come la versione maschile del tamagoji ok infatti le classi le forme evolutive iniziali la luce che non esistevano in realtà all'inizio di gioco prendono il nome dalla crescita lo stadio appena nato si chiamava appena nato in giapponese poi c'è neonato bambino adulto che sarebbe grey grey greymon non si chiama campione in giapponese si chiama adulto cioè lo stadio di greymon da lì sbattiamo il cazzo diciamo quello che vogliamo noi ci sono dei designer che voi li vedete sono dei ci sono dei kaiju ci sono mostri da incubo c'è roba che non ci dormi la notte robotoni cavalieri tettone fa tutto tettone soprattutto fa tutto vabbè ma qual'è l'ultima cosa di digimon che l'ha visto insieme insieme l'abbiamo guardata ghost game ghost game tu hai visto minchia è bello è carino cioè dice shebangs che più che altro la lore la trova molto più interessante rispetto a pokemon non è che non è che non è che non è che è che ha una storia decisamente più strutturata rispetto a quella di pokemon non c'è pokemon ma non c'è la storia in pokemon allora praticamente la lore di digimon dipende da che server già quello comincia a dare perché ci sono vari server per esempio poi c'è tutto il concetto di mondi paralleli digimon già c'era da una mita cioè ogni serie di digimon è ambientata in un mondo parallelo diverso che è diverso da quello dei giochi però sono tutti canon cioè non è che una cosa è canon quella non è canon è tutto un infatti ci sono quelle le puntature dalla sentai dove a un certo punto c'è vedi il protagonista della serie di di digimon world per la vista della serie di digimon per la vista della serie di digimon per la vista di digimon poi vabbè comunque è un casino digimon e saliti dietro e diciamo è molto più difficile che di poco perché comunque sarebbe usciti dei digimon che sono bellissimi che adesso allora l'unico è uscita è uscita vespi diciamo la vespa reggina ok che è una tipa che praticamente si evolve che esce il trono dal cu cioè praticamente si evolve e esce il trono e c'è praticamente sotto c'è uno sciame di vespe che stanno sul poi c'è un trono e lei si è tutta così e le però può anche trono ovviamente si alza dal trono e combatte però lei c'ha il trono si evolve e esce il trono che cazzo che vuoi dire a questa? bellissimo che cazzo le vuoi dire? Queen Beemon Queen Beemon si chiama a me però se è Queen Beemon Queen Fan Beemon però comunque ok dove cazzo è uscita il trono? devo andarla a vedere devo andarla a vedere no è una Loli l'unico difetto che era la Loli ancora meglio andiamo a vederla e allora non voglio sentire queste cose non nella mia live e niente questo ripeto il problema di pokemon rispetto ripeto è che sono molto attratto dal concetto di mondi paralleli di Gcbang anche si si ripeto se volete giocare a qualche gioco carino ce ne sono un sacco di region ma in general anche pokemon c'ha dei bei giochi anche negli spinoff questo cazzo è grande il trono e quindi c'è wall dash ma veramente se siete andati a cercarlo in magia ma è un trono questo carlo che è un'astronave cos'è si infatti è un trono ma che cazzo di trono è cernan celestile per la scienza dite il nome esatto di questo Digimon così che la chat possa andare a cercare io non lo metterò ah quindi io non lo metterò no no ma non è niente di pornografia è questo lo scrivo fuori cioè questo qua è il trono e lei è quello piccolo cioè quello è il trono e dentro c'è c'è l'episodio delle piramidi della prima stagione che ai tempi mi esplosa il cervello sì no ma forse quello me lo ricordo anch'io io purtroppo ho visto solo non tutti gli episodi della prima stagione e eh qualche episodio sparse della seconda probabilmente allora io consiglio sempre di vedere la terza Timers Timers a certo punto non so a chi hanno dato il vino perché solo quello solo cioè i produttori hanno detto ok beviamo mentre facciamo questa serie perché sennò a un pubblico di minoregni non la puoi dare quella roba non la puoi dare no ma è talmente piena di traumi è talmente piena di mona è una parmigiana di morti gente che ma proprio muero di gioco come se niente fosse protagonista la saga di Etemon eh ma io purtroppo si banca se non mi ricordo tutti i nomi cioè io veramente le ho viste che ero piccolina le ho viste che ero piccolissima e poi dopo non le ho mai recuperate anche se vorrei in realtà una parmigiana di morti si è una roba che ti rende dei traumi cioè verrai dei traumi anche in quella serie io ho detto ma perché che ma poi c'è stato il villain finale è una roba che veramente che è uscita cioè è una roba da incubo è un horror diventa verso la fine che è oh io dico oh ma per cioè ok vabbè è infatti la mia serie preferita viene da dire però è cioè è strana è proprio strana mi sa che non l'avevamo capito è proprio strana Teamers cioè inizia normale il tapposo mi sa che si è bloccata la live voi mi sentite? ah no mi sa che è andato bisogno anche di ascolti non è così ma non è così 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 ok dovrei esserci dovrei esserci dovrei esserci devi devi rimettere a posto mo' si sono spancolate tutte ah si io non esisto Carlo è me siamo fusi ma non so perché ha fatto così eh mi sono spostato un attimo io ci siamo ci siamo aspettate eccoci i Digimon si sono no 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 è è stato il router non so perché faccio così domani e mi proverò a richiamare comunque ma è a posto adesso si si mi sono persa le ultime discorse che stavate facendo voi mi dispiace no vabbè cose comunque ho detto il gioco migliore secondo me di front software rimane Bloodborne nonostante il Dering anche perché a me il Dering la seconda parte non piace devo dire la verità quando si entra nei nella parte innevata il secondo me è lì mi ha fatto ridere Zacian che ha detto che userà in riunione il termine parmigiana di 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 morti ma ancora ma che cazzo ma ancora no è che sta facendo ma che cazzo basta però beh chiudiamo allora dai è il segno che dobbiamo chiudere è il segno che dobbiamo chiudere che dobbiamo finire dobbiamo andare a letto no vabbè allora è Carlo che sta boicottando la live è colpa dei Digimon a parte no scherzo a parte questa cosa quest'ultimo contrattempo noi rimaniamo che per venerdì vi aggiorno vi aggiorno io con poco non ci rivediamo quando abbiamo detto e noi adesso facciamo un ride a qualcuno e rimanete perché facciamo un ride e niente per il resto ci sentiamo su telegram eccetera eccetera buonanotte a tutti bella gente e alla prossima rimanete che facciamo il ride buonanotte ti è piaciuto questo video? se si fammelo sapere nei commenti oppure iscrivendoti al mio canale corri a seguirmi anche sugli altri social per non perderti le mie prossime attività se vuoi puoi anche supportarmi attraverso Ko-fi la piattaforma dedicata ai creators di tutto il mondo alla prossima